buongiorno allora siamo per iniziare anzi veramente abbiamo già iniziato a carteggiare lo stucco che dovevamo stuccare per levigare tutto quanto ora noi facciamo qualche piccola ripresa così parlata ma in realtà sto metto attenzione ho messo il fisciai quindi è chiaro che mi vedete un pochettino un po farò vedere bene o male il procedimento piano piano di quello che stiamo per fare quindi andiamo a montare la coprò e questa la lasciamo solo per i vlog parlati a dopo ciao posto i viti in dei polgio io e mettere un tasto ok ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.